Sulla questione della bretella tra agropoli ed eboli interviene anche la Coldiretti nella figura del dirigente Enzo Tropiano. Si parla di un progetto ampio e complesso che prevede 600 ettari di esproprio, dice. La ricaduta è non indifferente e si deve procedere con cautela. L'opinione di Coldiretti è di grande cautela. Noi abbiamo questo tracciato che si vorrebbe realizzare che impatta su un esproprio di 600 ettari complessivi con 160 aziende agricole interessate. Quindi non è un impatto irrilevante per il settore agricolo. Quindi dobbiamo cercare di capire come minimizzare questo impatto, rafforzando magari come in alternativa i tracciati stradali già esistenti, ovvero verificando come è possibile variare le tre opzioni che sono state presentate in maniera da minimizzare l'impatto su questi terreni. Sono terreni agricoli di grande pregio. Ricordo che la Piana del Sele ha un pilla agricolo importante, oltre a un miliardo di euro per la quarta gamma e le insalate, e oltre 500 milioni di euro per la filiera della mozzarella di bufala. Quindi andare a espropriare 600 ettari disseminativi in un territorio così rilevante dal punto di vista economico che dà oltretutto lavoro per oltre 3 milioni di giornate annue a tante persone che si sono impiegate in questo settore, ha un impatto economico, ha un impatto gestionale, quindi ci vuole grande, grande cautela prima di mettere mano a quello che ciò esiste.